Un debito da 500.000 euro porta verso la chiusura all'aeroporto biellese la prossima settimana a riunione straordinaria dei soci. Dopo la serie di incendi nelle abitazioni che ieri ha causato anche una vittima abbiamo intervistato il comandante dei Vigi del Fuoco di Biella, l'ingegner Calogero Turturici. L'ASL paga con 60 giorni di ritardo e le farmacie protestano mettendo in mora l'azienda sanitaria biellese. Il lago di Viverone è candidato location per i campionati di Formula 2 ed europeo di acqua bike. Si preannuncia un fine settimana strepitoso sulle piste del Monte Rosaschi con sole e cielo limpido, attenzione al pericolo Slavine in fuori pista. Un cordiale buongiorno dalla redazione di Biella, un benvenuto a questa edizione in diretta del telegiornale locale. Subito in apertura la pagina dei trasporti, l'aeroporto di Cerione verso la chiusura. La prossima settimana riunione straordinaria dei soci della Sace, la società che gestisce lo scalo biellese sul tavolo. La prossima settimana si deciderà il futuro dell'aeroporto di Cerione. E' convocata infatti l'assemblea dei soci della Sace, la società che gestisce l'aeroporto. Sul tavolo l'approvazione del bilancio e un piano di rientro per il debito. Un debito di circa 450 mila euro pertinente solo al 2012. Il problema è che la Camera di Commercio di Biella, uno dei principali soci, non può più immettere liquidità nelle casse dello stralo biellese, visto che, secondo il decreto Salvi Italia, un ente pubblico che per tre anni di seguito chiude in rosso, ed è il caso dell'aeroporto, non può chiedere alle Camere di Commercio di aiutarlo a ripienare i debiti. L'unico socio che ha emesso già nuova liquidità è la Fondazione Cassa degli Sparmi di Biella. La Regione Piemonte, tramite la sua finanziaria, Finpiemonte, non sarebbe intenzionata a dare altro denaro. Insomma, la chiusura dello scalo laniero è sempre più vicina, anche perché la Sace dovrebbe aprire un mutuo per ripienare un altro debito pregresso, accumulato negli anni, di circa 500 mila euro. Le ultime settimane sono state caratterizzate da terribili incendi nell'abitazione biellesi e che ieri hanno portato, purtroppo, anche una vittima a Masserano. Mattia Ferrero ha intervistato il comandante dei Vigi del Fuoco di Biella, l'ingegner Calogero Turturici, per capire come prevenire questi terribili e talvolta drammatici eventi. Sentiamo. Sono sempre di più nel biellese gli incendi a case e abitazioni private. L'ultimo, quello di ieri, una casa di Masserano in cui un 84enne ha perso la vita. Sono sempre di più questi incendi che in qualche modo coinvolgono le singole abitazioni, ma anche le abitazioni adiacenti. Un fenomeno, questo, che ha bisogno di spiegazioni. Queste spiegazioni le chiediamo al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, Calogero Turturici. Innanzitutto, comandante, quali possono essere le cause principali? Le cause principali sono essenzialmente una cattiva manutenzione dei sistemi di espulsione dei prodotti alla combustione degli impianti termici. Gli incendi degli ultimi giorni sono incendi di canne fumaria che vengono originati da un accumulo di fuligine lungo i condotti della canna che poi vengono incendiati dai prodotti caldi alla combustione. Quindi direi che la principale causa degli incendi occorsi in questi giorni è una cattiva pulizia delle canne fumari. Sulle canne fumarie collegate ai camini, alle stufette, diciamo che purtroppo non esistono degli obblighi normativi particolarmente forti, pregnanti. Per cui il cittadino è tendenzialmente abituato a non fare la corretta manutenzione di una canna fumaria. Se poi le case sono piuttosto datate, questo incendio di canna fumaria viene amplificato dal fatto che le canne fumarie, passando molto vicine ai colmi dei camini, tendono prevalentemente a innescare le travi di colmo dei tetti. E una volta che l'incendio si è spostato alle travi di colmo dei tetti, il danno agli appartamenti è particolarmente importante, o alle abitazioni è particolarmente importante. Molto spesso tendiamo a lasciare in tensione le apprecchiature, anche se queste non ci servono in alcun modo. Mi viene in mente i lunghi periodi di ferie, mi viene in mente le ore notturne. Perché lasciare in tensione le apprecchiature quando non servono? Una apprecchiatura in tensione è una apprecchiatura che vive nonostante non serva. Consumando tra l'altro energia corrente, quindi costi? Primo, diciamo che il beneficio immediato, perché non c'è niente con la cultura di sicurezza di incendi, è quello di un risparmio economico non indifferente. Ma poi basti pensare che una qualunque apprecchiatura elettrica che ci portiamo a casa funziona come noi, a un tempo di vita media. Quando noi nasciamo, ogni giorno andiamo dal medico perché c'è il rischio di malattie, di difetti di funzionamento nella nostra fascia iniziale d'età, quando diventiamo più anziani e anche quando diventiamo più anziani ritorniamo molto più spesso dal medico per capire se stiamo male o se stiamo bene. Ebbene, la apprecchiatura elettrica si comporta esattamente come l'uomo. C'è un elevato probabilità di guasto nei primi istanti di vita nella apprecchiatura elettrica e la apprecchiatura elettrica ritorna ad avere elevati probabilità di guasto quando è in fase di fine vita. Quando noi teniamo inutilmente in tensione la apprecchiatura gli stiamo accorciando la vita. E quindi questo è il rischio che corriamo, è quello di provocare degli inneschi che potremmo benissimo evitare, basta spegnere la apprecchiatura quando non ci servono. Ma questa era solo un'anticipazione perché altri consigli dall'ingegner Tuturici andranno in onda questa sera dopo la sigla del telegiornale serale alle 19.45 alle 23.30. Ed ora parliamo di Crona che è stata ridimensionata la posizione dei tre biellesi arrestati mercoledì scorso con l'accusa di tentato sequestro di persona, porto abusivo di armi e usurpazioni di titoli. Sono cadute quasi tutte le accuse tranne quella di porto abusivo di armi oggi Mauro Gronda, 47 anni, Gino Astro, 51, Massimiliano Loiacono, 33 anni, tutti di Biella che si sono recati in provincia di Benevento con il fine di rapire Luca Mercandino imprenditore biellese trasferitesi in campagna compariranno davanti al giudice per la convalida dell'arresto e con ogni probabilità verranno rilasciati. I tre siano travestiti da vigilo urbano con le divise prestate da un agente della Polizia Municipale di Biella e ai carabinieri hanno raccontato di vantare un credito di 200 mila euro dall'elettricista mercandino. Ora cambiamo argomento, parliamo di Asle e di farmacie. Inaccettabili 60 giorni per il pagamento ed i farmacisti mettono in mora l'azienda sanitaria biellese. Le farmacie si ribellano alle ASL dopo la decisione delle aziende sanitarie del quadrante Biella, Vercelli e Novara Verbano di effettuare il pagamento dei farmaci a 60 giorni e non più a 30. Si tratta di un importo che si aggira sui 5 milioni e mezzo di euro ogni mese per i quattro territori. I produttori fanno pagare i grossisti a 7 giorni, noi paghiamo i distributori a 30, spiegano da Federfarma. Le condizioni poste dalle ASL sono impraticabili, ma le aziende sanitarie non intendono modificare la loro decisione. E così i farmacisti hanno dato vita ad una protesta che coinvolge 62 farmacie della provincia di Biella. Da oggi un legale metterà in mora l'ASL di Biella per ottenere una revisione della decisione assunta a livello di quadrante. Parliamo ancora di sanità, prestigioso incarico per Lorenzo Somaini, responsabile del CERT di Cossato. Sarà docente del Master Universitario in Analisi Chimiche e Chimico-Tossicologiche Forensi organizzato dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Bologna. La presenza del professionista biellese legata all'esperienza e alla collaborazione instaurate in questi ultimi anni con l'Università Bolognese dove vengono sviluppate nuove metodologie analitiche per il monitoraggio terapeutico dei farmaci e alla rilevazione di alcol e sostanze di abuso nelle diverse matrici corporee. Restiamo ancora in ambito sanitario. La Lilt di Biella, in collaborazione con Bancasella, promuove una raccolta fondi per la costruzione dei locali che ospiteranno lo sportivo informativo per il malato oncologico all'interno di Spazio Lilt. A partire da questa settimana, presso gli sportelli delle figliali di Bancasella in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, sarà possibile acquistare le originali stelle virtuali che splenderanno all'interno dell'ampio ingresso di Spazio Lilt e con un messaggio di ricordo della persona che ha portato alla sua creazione. Il versamento potrà essere fatto attraverso app mobile tramite smartphone. Regalando una stella o un mattone simbolico, si contribuisce alla costruzione di Spazio Lilt, il grande centro di prevenzione e riabilitazione oncologica in via di costruzione a Biella. Ogni stella è personalizzabile con un nome, con una donazione di 50 euro, con una dedica, con una donazione di 100 euro ed è visibile in anteprima virtuale sul sito www.liltbiella.it. I mattoncini simbolici, acquistabili con una donazione di 25 euro e personalizzabili con dedica, verranno posizionati su un pannello il giorno dell'inaugurazione di Spazio Lilt. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Vigliano Biellese dove ha riscosso un grande successo e interesse la mostra Il fascino borghese della fotografia. Vediamo il servizio di Laura Martini. Siamo lieti in modo particolare di queste mostre che si inseriscono nel solco di quelle che abbiamo fatto biellesi nella storia legate all'Unità d'Italia. Il fascino borghese della fotografia, Longanesi e il borghese in mostra qua a Vigliano in una raccolta di foto interessantissime dove c'è la contraddizione e la cerniera fatta da Longanesi e dal borghese con la tradizione e la modernità, il conservatorismo e il progressismo, la scoperta della ruralità italiana e dell'apertura verso il mondo. Longanesi con lo suo stile ironico e la sua critica è riuscito a immortalare le fasi più salienti della vita italiana dal dopoguerra in poi. Il presidente del Fotoclub, Bennoto Ibiellesi. Grazie per l'invito a presentare questa mostra che ha due filoni. Uno è sulle fotografie caricaturali dei personaggi della Prima Repubblica degli anni 50, 60, 70. personaggi del mondo della politica, dell'economia e della finanza. Il titolo è Sguardi derisori. L'altra invece è dedicata a Torino 900, Torino centro dell'industria italiana, considerato anche un laboratorio, dove vengono colti soprattutto gli aspetti legati alla dimensione umana, alla persona. Persone sia del mondo della politica, dell'economia, della finanza, dello spettacolo, della moda, dello sport, del teatro, del cinema e anche della gente comune, le semplici persone che non sono personaggi. Inoltre c'è anche l'aspetto dedicato al terrorismo e alla cronaca nera, situazioni degli anni 70 che Torino ha saputo superare con il suo innegabile senso di impegno e di responsabilità. Parliamo ora di agricoltura. L'apicoltura biellese riceve nuovi fondi destinati al contenimento della varroa, malattia che arreca ingenti perdite di api. e l'amministrazione provinciale di Biella far partire un bando al quale potranno aderire fino al prossimo 29 marzo gli apicoltori professionali. Il contributo per l'acquisto di arnie dotate di fondo con rete antivarroa verrà erogato in conto capitale con una percentuale del 60% della spesa ammessa. Alla chiusura del bando verrà predisposta una graduatoria di merito e le istanze verranno approvate, secondo l'ordine della stessa, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'iniziativa vuole sostenere e valorizzare l'apicoltura, che svolge un ruolo fondamentale di tutela e di sviluppo dell'ambiente e che sta raccogliendo un numero sempre più alto di giovani che si avvicinano all'agricoltura. Scusate oggi per la voce che è bassa, ora ripartiamo, parliamo del lago di Viverone, che è candidato come location per i campionati di Formula 2 e di europeo di Aquabike. Un'iniziativa decisiva per il nostro futuro, in quanto sono state definite le coordinate da seguire per investire sullo sport e incentivare il turismo. Sono le parole del sindaco di Viverone, Antonino Rosa, che punta dritto all'ottenimento di contributi regionali per l'organizzazione dei campionati Formula 2 ed europeo di Aquabike di settembre. A presentare la domanda di finanziamento è stata la federazione motonautica, dopo un incontro tra il sindaco e le diverse associazioni sportive potenzialmente interessate a realizzare manifestazioni sportive sul territorio di Viverone. L'amministrazione comunale dovrà però dimostrarsi all'altezza della situazione. Queste le condizioni di Palazzo Lascaris, organizzando kermesse internazionali in grado di attirare atleti stranieri e incrementare il turismo del lago. Pena, l'addio ai suoi sogni di location per le attività sportive. Antonino Rosa, a riguardo, si rivela ottimista. Viverone si appresta ad essere sede di manifestazioni sportive di livello internazionale. Tutti gli operatori turistici saranno coinvolti e questo sarà digiovamento per l'economia locale, ma anche per il turismo. Data la sua portata, l'attenzione mediatica per questo evento sarà notevole e noi abbiamo intenzione di sfruttare al meglio questa opportunità per promuovere il lago ed il borgo medievale. Dal lago alle nevi del Monte Rosassi sarà un fine settimana veramente strepitoso sulle nevi valdostane, però attenzione al rischio valanghe. Vediamo Marco Fulcheris. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Teoneve, come sempre in collaborazione con Monterosa Ski, Cervigna S.P.A. e Pila. Un weekend veramente all'insegna del bel tempo per gli appassionati della montagna, temperature miti, uno di quei weekend che è raro trovare così bello in montagna con un innevamento di pochi giorni fa, quindi piste di sci proprio all'insegna di una meravigliosa sciata. Ma vediamo come sono le condizioni meteorologiche generali, perché un'alta pressione posizionata sulla Francia del nord porta bel tempo sulle nostre regioni settentrionali, mentre invece la bassa pressione che è posizionata nel terreno meridionale porta mal tempo al centro e al sud. Questa è la situazione della neve sulle piste di sci. A D'Antagnò abbiamo 40-80 cm di neve, a Brusson 35-85, a Champolluc 50-150. Qui in Valle d'Aias per sabato le temperature previste sono da meno 3 gradi di minima a 7 gradi la massima. In Valle dell'Is la situazione è questa, a Gressonei-Saint-Jean abbiamo 45 cm alla partenza della West Mountain, 1,10 m in alto. A Gressonei-La Trinité abbiamo 61,40, mentre le temperature varieranno da meno 6 gradi a 8 gradi la temperatura massima. Mentre invece passiamo a Cervigna, in Val Tournans, dove abbiamo 85 cm in paese e 2,40 m a Plattorosa, 1,20 m a Plattorosa, qui le temperature previste sono da meno 5 a 3 gradi, sempre per la giornata di sabato. A Pila abbiamo invece 50 cm nella parte bassa, 1 m in alto, temperature da meno 2 a 3 gradi, tempo soleggiato, venti variabili da nord-nord-ovest. Ma vediamo com'è la situazione delle temperature per domenica. in Val Dayas avremo temperature che varieranno da meno 2 a 8 gradi, a Valle dell'Is, a Gressonei-Saint-Jean e la Trinité, avremo per domenica temperature da meno 5, addirittura 9 gradi la massima, a Broi-Cervigna avremo da meno 4 a 5 gradi e a Pila da meno 1 a 5. Raccomandiamo prudenza per chi fa lo sci alpinismo, perché come vedete le temperature, soprattutto le massime nelle ore centrali della giornata, sono molto elevate, quindi c'è pericolo di varanghe anche dovuto a questo manto nevoso nuovo che è instabile sul manto nevoso più vecchio e quindi si va ad essere in condizioni veramente un po' critiche per quanto riguarda il pericolo di neve, soprattutto in quei tratti dove gli sciatori tagliano in mezza costa i diruppi della montagna. Per questo weekend è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Ed ora vediamo gli appuntamenti del fine settimana biellese nella rubrica curata da Elena Lovero. Vediamo quali saranno i principali eventi del fine settimana biellese. Sabato sera alle 21 a Biella, al Teatro Sociale Villani, special guest Rossana Casale. Iniziativa di Biella in scena, con Maurizio Di Fulvio e Andrea Candelli, alle chitarre. Sempre a Biella alle 21, all'Aula Magna, Valio Rubes, Piccirida, spettacolo teatrale, su Rita Atria, della compagnia Orme di Libera Piemonte. Sabato e domenica, Santuario di Europa, prima edizione delle giornate dei musei ecclesiastici. Il Museo dei Tesori di Europa aderisce alla prima edizione delle giornate dei musei ecclesiastici è promossa dall'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, che con aperture gratuite e molto iniziative vuole aiutare tutti a scoprire un immenso patrimonio spesso poco conosciuto. A piedicavallo alle 21, al Teatro Regina Margherita, sesta rassegna di cinema di montagna. In questa occasione verrà proiettato Olga il Tempo, parte terza e Legia della Sera, di Emanuele Ciaconello. Linea 4000 di Giuliano Torghele, Hardest of the Alps di Damiano Levati. Domenica a Biella alle 16, all'Opificio dell'Arte, Storie di Pignocchio, uno spettacolo dato ad un pubblico di famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Invece spostiamoci a occhieppo inferiore, dove a partire dalle 10, di nuovo numero 7, Teatro Studio. Nuovo progetto teatrale, Teatro Studio tenuto da Riccardo Mafiotti. Un consistente progetto di integrazione, aggiornamento e trasmissione adatto a tutti coloro che incontrano quest'arte, sia a livello professionale, sia amatoriale o casuale. E con questo è tutto per questa edizione, vi ricordo che i nostri telegiornali li trovate anche su Youtube, sul nostro sito www.retebiella.tv e sulla nostra pagina Facebook, Rete Biella Alpi TV. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona giornata e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.